Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video ragazzi Oggi come vedete in questa schermata andremo a shoppare lo Skull Trooper Ragazzi prima di tutto vi invito a lasciare un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale ragazzi che manca poco ai 650 iscritti Condividete questo video con tutti i vostri amici Attivate la campanella per il prossimo video ragazzi Quindi adesso si scioppa bella Granders che ci ho fatto tutto per voi ragazzi Guardate che bello ragazzi Ho scioppato Quindi dal vostro caro Dark è tutto Vi lascio alla partita Il più forte team deve essere io Vedo Dark Poi facciamo un torneo E' appunto me lo fa stupendo male E' ma non si chiama Ah ma la cazza Non è detto Anche l'altro è parlato Bye bye Vai a fare il zio Vai a fare il zio Quando doveva mi date una mano Io capisco il saluto su casa C'è qualcuno un'allarma Ma mai c'è Dimmi dove Dell'erba qua Dall'erba qua Dall'altro Ha fillato uno Con le granate Ecco No ragà 65 L'ottore in testa Ecco da me Guardate Qua 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 Un omega E' wasciuttissimo Guardate che il job Di lavo 7 col pompa Certo che mi chilla Guarda c'è Mi servono colpi del pompa E colpi razzi Colpi razzi No scusso La presa Lo stasso Colpi razzi C'è line No C'erano colpi del pompa Che ne ho due Per favore C'erano Appunto Quereo Questo è un'altra Sto farlo Che dito lo troviamo Eh ma io sono Del pompo Guarda che c'era andato 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 Vi lasciate colpi del pompa Per favore Vai lasciare un pompa Per favore C'è C'è Vuole colpi Mi serve Oh questo salto è bellissimo 3,6,7,8 Ma Ma Tanti rega qua 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 Mike Mario Mario Ho Deco Tipo Non so Di farlo Scusate Di farlo Scusate 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 Del cecchino Del cecchino Del cecchino Non ho 24 Oh trovate il caccio Io Ti lascio Ti lascio Ti lascio Questa Ma cosa c'ho dietro Oh no Oh no Poi Mettiamo No E' morto Si vicino a ti E' bello Ti hai fatto Scusate Oh Oh Pompà Amico Prega che si bucchia che si prende al medico Guarda piano Guarda piano Guarda Anasotico Ah mi sei toccando un po' insieme Fai ma giusto un pochetto Un po' Ah vabbè Non lo prendo più Le medici Eh guà E' pure vicina Si fa E' bello Se qua Beccola Scusate No Ho preso Una doppietta E' bello E' bello E' bello E' bello Che qua che roba Oh Ciò D'arrivo E' bello Oh Mi vado a fare E' bello E' bello E' bello E' bello Non avete a trappare congelanti Che ci arriva No Ha la pura Mette Sbagliato A posizionarla E' gg Che mi piace qualche No Mi ho fatto un attimo La palla Ma La palla Le Unicidità 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 La palla E' bello L'altezza Unicidità ci sono le male questo è un po troppo sono un po troppo scorso oggi e chi non vuol dire attento ecco quello c'è la macchina sta nella macchina sta nella macchina non stanno queste band nella macchina quanti ne vuoi caracca non mi servono soltanto due no 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 non mi servono è vero dottavo farle papà dell'arte vede fa bello o cara una mela dentro casa va bene faccio tissimo a 25 di vita si è giuscitato bella l'antina filantino è stato l'altro da sopra ma non l'ho detto io copritemi in altri siamo ragazzi al bibitone non puoi stare non puoi stare ragazze di buccia un amico a terra sparato e sparate gli sta curando il suo amico hai stato un hit ho fatto un hit killato mamma mia uno che ho fatto un liscio ma dove stanno a uno da me uno questo è giro qua 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 no che è che ci avviene per me ci stavo ormai l'ho sotto ma che partita sta facendo dark per fuori modi cioè da che se non mi chiede da vorreste non mi prende ma riusciamo a beccialla che non sono ma riaia questo è uno che spamo vuol dire oh dio ah ma stammatemi ragazzi stammatemi per favore stammatemi riusciamo a continuare ah ma per questo fa un schifo questo stammatemi stammatemi stammatemi